cari amici telespettatori dedico questo video a tutti quelli che mi seguono su facebook su twitter sui vari social faccio gli auguri a tutti quelli che fanno gli anni quest'oggi che ne abbiamo 19 ottobre e vi ricordo gli appuntamenti live delle prossime settimane che saranno vari a partire da questa sera col tributo a michael jackson con il grande andrei imparato alle wedu ma tantissimi altri ce ne saranno nelle settimane prossime detto questo saluto tutti gli amici vip che mi seguono nei social li invito se magari mi vogliono invitare a far qualcosa insieme a loro perché come sapete cari amici sono un aspidante conduttore ed ambisco assolutamente a sfondare nel mondo televisivo quindi amici se avete qualche proposta voi amici vip soprattutto attori attrici o quanti altri nel mondo dello spettacolo sapete dove trovarmi sono sempre a vostra disposizione per qualunque cosa e mi direte su facebook le seguite quindi sapete tutto insomma di me ormai sono anni che ho questo canale e spero di aumentare anche come iscritti ringrazio finora quelli che ci sono e quelli che verranno in futuro insomma detto questo vi do un abbraccio e vi auguro un buon sabato a tutti e ci sentiamo nelle prossime dirette su facebook ciao a tutti